Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ci troviamo su Roblox E siamo praticamente su Murder Mystery 2 Quindi adesso aspettiamo che di iniziare Allora mi stanno chiedendo se Sto registrando ora Devo fare pubblicità per forza Ok allora ragazzi si inizia E io sono Per favore non murder Ok Allora sono innocentissima Molto molto innocente E lagga un bel po' quindi Allora non salta Ok Ma non ho capito io dove sono Ah Non essere il murder per favore No sta laggando va E poi un minamento di Minecraft Ok Allora prendiamo un po' di soldini Qua stanno scrivendo Non mi ammazzate subito che Poi arriva la mia verdetta appena sono in murder Ma Eh Lo fa un po' stavendo passare avanti al video Oppure Allora Ma che quanti soldi Ma Di qua dove si va Vabbè non mi interessa Vabbè non mi interessa Vabbè Ehm Ice cream E poi A A A A A Video Edge Non so se dovrei dirteli Però vabbè Va Sì Vabbè Vabbè Sì Faccio anche video di casa Sì Ma adesso non posso rispondere Vabbè Allora Sì Faccio Allora Vabbè Allora Vi rispondo nel video Allora Gacha Life E' un gioco Dove Ti crei Dei personaggi E se hai dei programmi Per Registrare Per esempio Ci fai delle storie Eccetera E io adesso Non riesco a soldare Qua sopra Ehm Poi i programmi che uso Sono tutti quanti Proprio Non sono Il massimo Però Sono le cose Che posso usare Per il momento Se non me lo Dici Metto Dislike Senti Non mi importa Se mettete Dislike Al video Allora Io A me non mi importa Se mettete Dislike Perché Non mi importa E basta Potete fare Quello che volete Opinione Opinione Personale Mamma Stavo dicendo L'opinione È personale Quindi Fate quello che volete Mettete like Dislike Ma non fatelo a caso Non fatelo a caso Oppure Corruzione Dovete Seguire La vostra Opinione Oh Allora Vediamo Io voglio Vediamo Così mettiamo La Workplace Cos'è Mi metto qua Allora Io voglio Vedere Workplace Qui stanno Parlando Di canali Youtube Allora Mi serve Vedere Ok 5 minuti Di registrazione Allora Innocente Ma Innocente Come non mai Qui c'è Le latte In ufficio Ma No Bisogna No Non voglio Incastrarmi Ma odio Sto sedio Allora Qui Stanno Degli scatoloni No Per favore Per favore No 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 Muro Caro mio Il muro Adesso Adesso Il muro È il mio migliore amico Sicuramente Mi ammazzeranno Però Fa niente Il muro È il muro Il muro No No Aiuto No Muro Per favore Salvi Muro Muro Per favore Salvami Che c'è Io non so Chi è il mur Non ho visto No 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 comment È stato Puro caso Captain Steve Maledetto Ma Ma Guarda No Dai Per favore Oh Te che Ma vato Ma sei Veramente No Sono solo Due No 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 Poverino Mamma mia No 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 Dai Non è vicino Forse Dai Forse è un po' vicino a loro Dai Che ce la puoi fare Su Dai Sei l'ultimo Mamma Dai 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 Quanto manca Non lo vedo più La fra Mezzo di italiano Anch'io Tutti Siamo qua La fra Qua che stanno facendo Captain Steve Mamma mia Io so Non leggete Quello che ha scritto Imperial Non lo leggete Assolutamente Dai Potete Dai puoi scappare Ce la fai I domani dove sei Stic Non ci credo È stato bravissimo Bravissimo Mamma mia Beh io lo sapevo Che lui era il murder Infatti ci ho provato A scappare Ma Eh Non vale Sì vabbè Eh Allora Vediamo che mappa Esce adesso Grazie Ma allora House 2 House Io voglio la house Grazie Chiesto dove È passata da 20 A 20 A 10 Vabbè Sì Io lo so pure Che è passata da 20 A 20 Già Qua abbiamo Il pro del server Allora Io sono Innocente Meno male Mi è passata da 20 No Non può essere di nuovo lui Giusto Mamma mia Lui mi fa paura Ogni volta Chi è Uuuu Senza sapere chi era Mamma mia Ma sono fortissimi Oh eh Ah era te No dai Non ci credo Non ci credo Grazie Imperial Grazie Imperial Sei stato bravo Che hai ammazzato il murder Bravo Con quella faccia Sì Poi Anche tu Sei stato Imper Anche tu Vabbè Un bravo murder Però è stato ammazzato subito Però fa niente E vediamo che mappa esce Io ero un innocente Che se scappava All'indietro Vabbè Dall'ultima partita Sperando di non essere In murder Perché io faccio Schifo come murder Eh sì 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 Allora Vediamo Intanto Lì sta ballando Beh Allora Io sono Ok Ok ragazzi sono innocente Quindi posso scapparmene Oh no Questa porta non funziona Ma le porte Ma Uffa Le porte Ragazzi Ci blocchiamo Questa porta funziona No Ma non funziona niente Vedi questo c'ho paura Non ci sono porte che funzionano No Ma porca miseria Ma dove c'è Ho visto il murder Io l'ho visto Ho visto L'ho visto L'ho visto troppo bene Io l'ho visto Aiutami Aiutami L'ho visto io Io ho visto il murder Lo scrivo No È vicino È vicino Vicino Mamma Aiuto No Non mi ammazzate Per favore No Io vi denuncio Non mi ammazzate Ah no Porca miseria No Via Via Capo no Ragazzi Io direi Di chiudere quel video Con me Che morivo Perché Sono più brava Da telefono Quindi Ciao A tutti